Compa ma senti dopo che ho fai... vai senti dopo che ho fai le parti profumo a motore. Regà non potete... non è da PC, dai smettete. Non può essere da PC, non c'è una cosa da PC. Eh, hoxbox. Che... posso che la metto in culo e non piangi. Aspetta, aspetta. Pazzo... Mi la dico, non mi piace. Audio, ragazzi, eh. Chiama albi, compa. Chiama albi. Ma... ma questo dietro? Eh, vince... ma guarda questo com'è, cambiiiina! Era lì dietro, compa, era lì dietro. Albert, erano lì dietro. Vedi come muoio io, compa. Albert, tranquillo. Scusate, abbiamo controllo che fa mi ha morto, compa. E io qui, vengo poco ma io qua. E io qui... e io qui. E io ciò. Sì, la tua testa. E questo qua è finchè, tutto lo faccio io. aia peppa le plantarize plantarize capito ma molto crescio copila peppa ok la tua sinistra peppa la tua sinistra qua e qui sicuro 100 100 destra ottimo brava quindi della che cazzo vuole se non sottola certo mette le cose non ti hanno dato i droni qua mi spacchi qua c'è mozzi bricciate ragazzi che ho peccato oh pigriera appunto vieni 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 insieme vieni 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 Diffuser Maa Buongiorno Buongiorno Non ci credo Non ci credo Oh dove c'è? Non ci credo Ci posso credere Eh come fai? Questi conto sono scandalosi C'è un paese Siamo adotti scarsi I'm reloading I'm four, line stop standing Line down front Lights on I'm four eliminated I'm four eliminated I'm four eliminated I'm four eliminated I've seen the villain Infatti mi non so se vede Stavo mirando lì C4 deploy Dotto is in play Dotto is in play Aspetta Oddio Quando non muore Noi ragazzi Non muoio Non muoio Albea Ha pochissima vita Ah non c'è Do Mute Oddio Da mute Da mute C'è ricevi? Perché non è pure anche C'è gioco normale Non parla Ma sono scarsi Ve l'ho detto Non ci credo Regà E' ricrasciato No mi direi che mi ha Stavo Ma sa che c'è connessione No No Sì c'è ma che cosa tocca adesso Ora mi bandano Ora Ok Ok Raga chiedo scusa per questo video ma mi è stata la connessione quanto bene mi è stata la connessione ma ci sono che lo scuso ragazzi ecco questa parte è da clacciato non è buona mi è la proposta per stare un attimo aspettate E' da 3-0 e da 3-3 Questi qui sono uscito io Maaa Eh, vai, 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 vai C'è... 3-3-3-3 E' da 2-3 Il posto non è libero, non c'è nessuno Il posto non è libero Ok, ho crashato giusto giusto la quina In questa relazione è una partita scrittata, era dita e purtroppo si perdita A perdiamo le pezzi. ahahah ahahah ok ahahah che cosa succederà oh 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 Cosa? 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 No! Cosa? Cosa? Audio? Cosa? Un po' con maioco, ma non muovo un peso. Cosa? ALLY Cosa? The diffuser is no longer in possession. The diffuser has been recovered. No, she's no. You must recover the diffuser. Throwing Salma! Ragazzi e amici Che partito ho fatto ragazzi di questo porco dio Compa aspetta compa fammi ricoprire questa partita e vince per favore Ti ho perso 9 compa almeno una l'ho vinta Aspetta un attimo vince un attimo un po' dopo classificarmi Compaio te l'ho detto Dopo poi la facciamo Io non posso Mi ho perso tutto Oh vediamo Quanto punti mi da Invitatemi io non ci sono nel gruppo Invitatemi ragazzi Eh epico Suona il nero per frost Suona il nero per frost Ciao 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 Ciao